Erano specializzati nel furto dei catalizzatori all'interno delle marmitte e avevano in macchina tutto l'occorrente per rubarli. Soprattutto avevano anche due catalizzatori dei quali non hanno saputo giustificare la provenienza. In tre sono stati bloccati e denunciati dalla polizia stradale di Cassino che li ha riconosciuti durante il consueto giro di perlustrazione nella zona della stazione ferroviaria. Gli agenti hanno notato una Fiat 500L con due uomini a bordo seguita da una Volkswagen Golf guidata da una donna che si dirigevano verso l'ingresso dell'autostrada. Hanno riconosciuto uno dei due uomini, l'avevano bloccato e indagato nei mesi precedenti per i furti di catalizzatori delle auto. Fermate le due vetture, la stradale ha identificato le tre persone e il terminale ha confermato che si trattava di tre specializzati nei furti di catalizzatori. Per questo i tre sono stati denunciati per furto aggravato in concorso.